Bentornati su Breaking Italy. Questa puntata è sponsorizzata da Decent Gadget con il suo Eggmaster. Eggmaster, un modo innovativo di cucinare le vostre uova, mettendole direttamente all'interno della macchina e poi... Oh mio Dio, oh mio Dio, cosa sta succedendo? Perché? Perché? Vi starete chiedendo? Perché ovviamente viviamo in un mondo di sangue e dolore. Buon giovedì. Non hai parlato della legalizzazione della marijuana in Italia, shooter. Shame on you. Shame. Ah, citazione di Game of Thrones. Qualcuno l'ha beccato? Spero di sì, perché altrimenti evidentemente non siamo allo stesso livello con la serie. Vedete di tornare al passo. Il punto è che la marijuana e la cannabis non sono state legalizzate in Italia. Non ascoltate cartelloni e cartellini di Facebook. C'è stata soltanto una proposta, il che è interessante e un passo in una buona direzione. Ma parliamo soltanto di una proposta di legge che è stata presentata dal parlamentare di Scelta Civica, anzi di ex Scelta Civica, visto che poi il partito si è dissolto. Ben detto della vedova. La cosa interessante però è che la proposta è stata firmata da un sacco di parlamentari di un sacco di partiti diversi, sia partiti al governo che partiti non al governo. Per un totale di 218 firme che passano dal PD, vanno al Movimento 5 Stelle, a Cell, al gruppo misto e basta ovviamente. Non ci sono partiti di destra, ovviamente perché la droga non vincerà mai. Questo qui è un tweet vero, non lo sono inventato, non è photoshopato. La droga ha torto e perderà. Ok? Ehi, droga, hai torto, sempre, qualsiasi cosa tu dica. La proposta funziona così, se dovesse mai diventare legge senza che venisse modificata in alcun modo, cosa che è praticamente impossibile, si potranno detenere minime quantità di marijuana addosso, 5 grammi e in casa 15 grammi. E addirittura coltivare sino a 5 piante per uso personale, che significa che poi non potrete vendere la roba, non potrete andare in giro a dare la vostra marijuana agli altri, anche se sarebbe effettivamente concessa anche la vendita al dettaglio soltanto in dei negozi autorizzati. Il DDL è un po' incasinato, effettivamente leggendolo mi sono venuti alcuni dubbi su come alcune cose dovrebbero funzionare, ma il tutto è susseguente a qualcosa che ha tirato fuori l'antimafia. Dato che la direzione nazionale, nella sua ultima relazione, parla del totale fallimento dell'azione repressiva, che è un modo simpatico di dire quello che ci siamo sempre detti. La guerra alle droghe sta fallendo, è inutile, le persone continuano a comprare questa roba qui. A questo punto leviamola dalle mani della criminalità organizzata perché non riusciamo a far fronte a questo problema. Più o meno come era successo negli Stati Uniti ai tempi del proibizionismo. Ora, noi guardiamo quei tempi e ne ridiamo e io addirittura posso postare tranquillamente un video, quello di ieri, nel quale faccio vedere che scatto continuamente delle foto alle birre che bevo. E nessuno si offende, nonostante il fatto che l'alcol sia una droga. L'alcol è una droga. Lo consumiamo continuamente ovunque ci sono degli esercizi commerciali che basano la loro intera esistenza sul consumo di questa sostanza. Mettiamoci l'anima in pace. E soprattutto, ovviamente, sì, se questa legge dovesse passare, mettersi alla guida per dire sotto l'effetto di cannabis sarebbe ancora illegale. Sono praticamente sicuro che un giorno guarderemo indietro e rideremo di robe di questo tipo. O di robe di questo tipo. Perché Salvini ha ben pensato, ovviamente, di fare un po' di benaltrismo. In stile completamente caotico, salviniano, dicendo una roba tipo La cannabis fa male, ma la prostituzione no. Quindi legalizziamo la prostituzione, ma non la cannabis. I problemi sono ben altri. Perché ovviamente, immagino, non si possano avere entrambe le cose. E sapete perché? Ve lo spiego io. Perché i media non ve lo dicono, i media ve lo nascondono. Sapete come viene chiamata spesso la marijuana? Canapa indiana. Indiana. Come i tizi che tengono i nostri marò? Siete contro il ritorno dei nostri... Seriamente, il governo questa cosa di marò l'ha gestita malissimo. E anche internet, in genere. Parlando, peraltro, di prostitute immigrate, in Kenya ci sarà una gigantesca protesta che vedrà più di 5.000 prostitute e prostituti, se così si dice al maschile, marciare nudi davanti a Obama. Non sto scherzando, non sto scherzando. Obama, infatti, visiterà il Kenya, che è, peraltro, il paese che ha dato i Natali a suo padre. Un sacco di persone nel paese si sono dette contro questa roba qui, per ragioni diverse, però, da quelle che vengono propagandate in Italia per andare contro un certo tipo di legislazione. Perché, ovviamente, paese che vai, spauracchio che trovi. E se qui bisogna pensare ai nostri bambini... In Kenya uno dei problemi sarebbe che le prostitute, che sono molte, molte, moltissime apparentemente, ritengono che perderebbero clienti se i matrimoni gay esistessero, venissero legalizzati, venissero resi possibili. Andate a capire voi la connessione, perché io non ci arrivo. Quindi ci sarà una enorme manifestazione di gente nuda, forse, perché immagino che non sarà permessa una roba di questo tipo, anche perché, non so se è una buona idea, 5.000 uomini e donne, tutti nudi in piazza, tutti stretti stretti, che manifestano. Peraltro, parlando di matrimoni omosessuali, navigando su internet nei giorni prossimi, potreste incontrare qualche titolo che dirà una roba tipo «Oh mio Dio, Merkel vorrebbe dare fuoco col Napalm a tutti i matrimoni gay e a tutti i gay?» Probabilmente con un sottotitolo tipo «Ebolino Renzi non sa che fare». Effettivamente la Merkel ha parlato dei matrimoni gay che in Germania non sono legali, ma attenzione, in Germania comunque esistono le unioni civili, che in Italia nemmeno ci sono, visto che adesso in Germania si sta parlando di rendere legali anche i matrimoni, mentre noi stiamo ancora decidendo se e quando e come e forse rendere possibili le unioni civili. Ora, la Merkel è stata intervistata e come sapete è il leader di un partito di centro-destra a ispirazione cattolica e la Merkel stessa è una donna cattolica che si è sposata due volte, però a quanto ho capito adesso ci si può divorziare, quello adesso vale. In un'intervista che è possibile visionare ha detto la seguente cosa «Credo che il matrimonio sia quando un uomo e una donna vivono assieme». Punto. Che è ovviamente interpretabile, anche tu e tua mamma vivete assieme e non siete sposati, ma non è quello che intendeva, ovviamente. Ha semplicemente detto che il matrimonio per lei è tra uomo e donna e quindi tutti quanti si sono incazzati moltissimo. Ha anche aggiunto che è suo dovere politico battersi perché tutti i tipi di discriminazioni vengano cancellati dal paese, che significa non solo essere d'accordo con i diritti civili di ogni tipo, quindi non potete sposarvi, però ci sono comunque le unioni civili, ma anche il fatto che queste unioni civili, quindi tra uomo e uomo e donna e donna anche, prevedano gli stessi benefit del matrimonio, ad esempio la reversibilità della pensione. Sto ribadendo comunque il fatto che no, io non sono d'accordo con la Merkel, volevo semplicemente portare un esempio di dibattito politico sano. Molto, molto, molto diverso da quello al quale siamo abituati. Arriviamo all'ultima roba, che è secondo me davvero interessante, perché si tratta di uno studio che viene fatto ogni anno da un'agenzia internazionale. Questo studio che mostra ogni anno qual è il paese con il più alto livello di reputazione nel mondo, il che quindi non significa i paesi che se la passano meglio, anche se spesso le cose sono abbastanza parallele, tra poco lo vediamo, ma qual è la percezione che si ha nel mondo di certi paesi. E la top 5 quest'anno è la seguente. Quinto posto Australia, nei posti con la miglior reputazione, quarto posto Svizzera, terzo posto Svezia, secondo Norvegia è prima, in assoluto è il Canada, per un sacco di ragioni che vanno dalla gentilezza delle persone, alla facilità nel trovare lavoro, ai bassi livelli di criminalità, ai bassissimi livelli di corruzione. Insomma, il Canada è percepito da tutti gli altri paesi come un posto fantastico. E l'Italia? La quattordicesima preceduta da Regno Unito e Austria è seguita da Germania e Giappone, che, crediateci o no, sono percepiti peggio dell'Italia. Parliamo ovviamente dell'opinione di tutti gli altri paesi. Ed è interessante vedere un sacco di cose di questo report, ad esempio come i paesi che meglio se la cavano in classifica sono quelli più pacifici, con meno livelli di corruzione e in generale i paesi considerati più felici, tra i quali, peraltro, noi non compariamo, perché siamo dei rompicoglioni, evidentemente non siamo mai contenti. Cosa che non è, peraltro, soltanto una diceria, è un dato statistico, apparentemente. Perché poi, quando si prendono tutti questi dati, quindi cosa gli altri pensano di noi, e si compara cosa noi pensiamo di noi, i risultati sono molto differenti. Perché mentre, ad esempio, paesi come gli Stati Uniti, che sono così così in classifica, la Russia e la Cina, che sono invece molto in fondo, vengono analizzati internamente e si scopre che i cittadini di questi paesi si considerano invece praticamente il meglio del meglio. Mentre proprio gli italiani sono uno dei popoli che sono più critici in assoluto rispetto a loro stessi. E quindi si considerano molto peggio di come gli altri li considerano. Penso che sia interessante. Ed è anche interessante un altro fatto. Ovvero, mentre guardate questo grafico che mostra cosa viene considerato positivamente e negativamente dell'Italia, non ci sono grandi sorprese in realtà. Si scopre che comunque, in genere, nell'ultimo anno, dal 2014 al 2015, la reputazione dell'Italia è migliorata. Nonostante il fatto che invece la narrazione che viene fatta in Italia non è per niente di questo tipo, anzi, è molto diversa. Ne parliamo un po'. Boom! Commenti qui sotto, assieme ai link a tutte le cose che ho detto, come al solito. Fate i bravi, grazie mille dei mi piace, grazie mille dei commenti che sicuramente lascerete e delle condivisioni nel caso decideste di aiutare lo show. Aiutano un sacco. Questa è la nostra regina per oggi, si chiama Giulia. Adesso sono molto confuso, ultimamente pubblico le cose, non so se le ho già viste io oppure le ho già messe nello show, non importa. Questa foto è fantastica, Giulia è fantastica, ha fatto questo disegno bellissimo che probabilmente avevo già visto su Instagram, quindi non credo fosse ancora finito in Breaking Italy. Non importa, Giulia, grazie mille per il disegno, ti abbraccio e anche abbraccio tutti gli altri, ma meno, oggi di più Giulia. Ci vediamo lunedì, domani è venerdì, quindi no, domani è giovedì, domani è venerdì, quindi non c'è Breaking Italy, ci vediamo lunedì, a un'ora casuale. Sapete come infatti viene chiamata la marijuana ogni tanto? Canapa indiana. Indiana, come i marò, come i... Ma la cazza.